Brighi recupera un pallone, gestito male, sta arrivando Menese, manca il pallone, Totti al volo e c'è il gol, Totti non ce l'ha fatta, Jorgacevic a respingere, il pallone si è infilato all'angolino, ancora una doppietta di Totti, 2-0. Questa volta con il sinistro, tutto nasce appunto dal rinvio sbagliato di Jorgacevic che ha servito male un suo compagno, è intervenuto Brighi intercettando molto bene, palla dentro l'area di rigore, niente da fare per Menese, ma tanto da fare invece per il capitano giallorosso. Eccolo qua, girato con potenze, allora non ce l'ha fatta Jorgacevic, contabilità, 224 in tutto, 28 le Coppe Europee, 26 UEFA Europa League, 4 gol in 2 partite, questo è il biglietto da visita di Totti.